Una morte improvvisa e sconvolgente. Giuliana Farace aveva soltanto 40 anni, un sorriso sempre acceso, il fare cortese gioviale quando accoglieva pazienti o ospiti nello studio di Bruno Mancuso, sindaco di Sant'Agata di Militello e medico con cui collaborava da tempo. Era uscita a cena venerdì sera, un momento di leggerezza con le amiche di sempre. Sabato poi era stata poco bene, avrebbe accusato sintomi simili ad una gastroenterite che si sono protratti nella giornata di domenica. Accanto a Giuliana c'era la madre che l'ha accudita nell'abitazione della quarantenne visto che non stava bene. All'alba di lunedì la terribile scoperta. Giuliana che sembrava godere di ottima salute è volata via così all'improvviso lasciando tutti i sgomenti. La famiglia della donna si è affidata all'avvocato Salvatore Mancuso che l'ha assistita nel presentare un esposto alla polizia di stato del commissariato di Sant'Agata di Militello per chiedere gli approfondimenti del caso. La procura di patti guidata da Angelo Vittorio Cavallo ha disposto l'autopsia. Nella giornata di oggi il sostituto procuratore Andrea Pollogno, titolare del fascicolo, dovrebbe conferire l'incarico. Intanto la salma della quarantenne è stata condotta all'ospedale di patti. Sulle cause della morte della povera Giuliana, che sono da accertare, la nota del legale della famiglia Salvatore Mancuso. Non corrisponde a verità la circostanza riportata da diverse testate giornalistiche online e siti e o blog di informazione che la signora Faraci lo scorso fine settimana abbia cenato a base di sushi o pesce crudo, arbitrariamente ipotizzati quali possibili causi di un'intossicazione alimentare e dal conseguente decesso della giovane donna. Attenderemo fiduciosi gli esiti dell'autopsia per avere chiarimenti medico-legali sulle cause di questa tragica e prematura morte, aggiunto il legale. La tragica notizia ha fatto il giro del Guelbi in pochi minuti. Addolorata tutta la comunità dei Nebrodi, siamo increduli e devastati dal dolore. Cara Giuliana, ci hai lasciati troppo presto, tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare ad una morte di cui non ci sono spiegazioni, ha scritto ieri il sindaco Bruno Mancuso, datore di lavoro di Giuliana, interpretando il profondo sentimento di dolore dei santagatesi. Cordoglio anche dall'amministrazione comunale di Alcaralifusi, paese di origine della famiglia della quarantenne e della deputata Lars Bernadette Grasso. Sui social centinaia, messaggi di cordoglio e ricordo per Giuliana, che si è distinta per garbo, raffinatezza e il suo sorriso pieno di luce.